Allora diciamo che noi purtroppo abbiamo cominciato anche un po' tardi per i vari lavori che abbiamo dovuto fare all'interno del Lido e in effetti come puoi notare ancora ci manca qualcosina. Diciamo che comunque le prenotazioni sono già partite da metà maggio a livello di ombrelloni e diciamo che sono abbastanza contenta perché comunque già i primi risultati si cominciano a vedere. E l'unica cosa che spero è di offrire ancora dei servizi soprattutto per le persone disabili. Infatti volevo creare anche una passerella in modo tale che la persona con la carrozzina abbia la possibilità di arrivare anche proprio lì in mare. Però ancora non ci sono riuscita a fare questo e spero che il comune di Botricello mi possa aiutare anche in questo. Allora è partita la stagione turistica anche in questa parte della costa, come sta andando? Siamo agli inizi, abbastanza bene, non ci possiamo lamentare. Paragone rispetto all'anno scorso e due anni fa? Diversa, c'è molto più affluenza, comincia ad arrivare molto più gente rispetto agli anni precedenti. Quindi si è tornati quasi alla situazione pre-Covid, comunque qualcosa è veramente cambiato? Stiamo cercando di arrivare alla normalità, ancora non ci siamo, però piano piano dovremmo rientrare alla normalità. C'è qualcosa di cui ancora le persone hanno paura? La distanza, ancora sono molto terrorizzate per la distanza e ovviamente è giustificato anche questo dopo tutto quello che è successo. Allora la stagione turistica anche qui a Botricello è cominciata, come è iniziata? La stagione è incominciata abbastanza bene dovuto a questo caldo meraviglioso che è arrivato e siamo speranzosi che faremo un lavoro migliore degli altri anni. Quindi avete un'idea positiva? L'avete avuto delle difficoltà anche per quanto riguarda i dipendenti? Se ne parla tanto o no? Sì, diciamo che questo effettivamente è una problematica di tutti ormai, però noi ragazzi che ci accompagnano degli altri anni sono fedeli a noi e noi cerchiamo comunque di trasformare questo ambiente in una maniera molto familiare in modo tale che loro possano restare contenti non solo del lavoro ma anche dell'ambiente che noi cerchiamo di creare.